Sicuramente se i motori della crescita vanno cercati, questo del turismo è uno dei principali, se non il principale motore che il Paese ha a disposizione per la crescita. Il Primo Ministro lo dice, lo dice anche in questi giorni, in questi weekend in cui ribadisce che noi non saremo mai una superpotenza nucleare o militare ma siamo una superpotenza culturale che può giocarsi su questo, il futuro in legge di stabilità ma senza entrare nei dettagli, qualche piccolo elemento di sostegno alle imprese del turismo, però io vorrei tornare a lei proprio per andare a vedere un po' più da vicino come il Paese sta affrontando e cercando di superare anche alcune disfunzioni che l'hanno fatto scendere nelle classifiche di attrattività e di competitività nel settore del turismo negli ultimi anni per darci qualche chance in più. In generale lei ha fatto riferimento agli interventi, io credo più che l'intervento specifico di sostegno delle singole imprese quello che conta è la capacità di raccontare l'Italia nel mercato globale, come accennava prima Morace, oggi la scommessa si gioca in quasi tutti i settori a livello globale, quindi è lì che bisogna arrivare a raccontare qualcosa che faccia senso. La scommessa evidentemente è difficile proprio per i temi anche strutturali di governance che ci siamo scelti, oggi il passo più importante, la cosa più importante che il Paese potrebbe fare dal punto di vista di assetto è certamente la riforma del titolo quinto perché non possiamo pensare di essere un player sul mercato del turismo se non abbiamo un pensiero Paese, una capacità di incidere di Paese che va molto al di là dell'incentivazione fiscale sulla digitalizzazione delle imprese se questo non avviene. Soprattutto bisogna fare delle scelte, io mi sono permesso di mettere qualche elemento visivo per sottolineare alcuni punti e soprattutto che cosa poi i singoli possono fare per poi il rischio di questi dibattiti anche che è sempre l'altro che deve fare qualcosa, il governo finché non c'è il titolo quinto non si fa nulla eccetera eccetera. E quindi dare un minimo di prisma di quello che ho cercato di fare, abbiamo cercato di fare come Confindustria, come fedeltismo Confindustria e anche cosa un po' facciamo come azienda in questo senso. Io come detto mi occupo sostanzialmente per tirare fuori del denaro di viaggiatori, di luoghi e soprattutto di come lavorare sul desiderio di viaggiare perché è lì che si crea la possibilità di fare qualcosa. Me ne occupo come azienda, appunto un'azienda, una multinazionale francese che comunque ha creato in Italia 1200 posti di lavoro e siamo la prima catena alberghiera che opera nel paese e anche come appunto presidente della filiera del turismo in Confindustria. Un primo elemento è che abbiamo una fortuna sfacciata perché il turismo è uno dei pochi se non l'unico settore maturo che cresce in modo stabile con dei numeri magnifici perché più o meno il tasso di crescita è del 5% all'anno, c'è un miliardo e duecento viaggiatori del mondo l'anno scorso, continuerà a crescere il 9% del PIL mondiale e soprattutto l'Italia resta in cima ai desideri di viaggio delle persone che in termini di fare impresa è evidentemente la leva maggiore che uno può avere perché hai della gente che desidera comprare quello che tu devi vendere, quindi è una roba fantastica, poi di essere i quinti, i quarti alla fine poco rileva, bisogna coltivare secondo me quel desiderio di viaggio e come tutti i settori che crescono molto e per chi come l'Italia è comunque tra i primi operatori il dilemma maggiore è quello di gestire questo elemento di crescita rispetto a un tema di saturazione che dal mio punto di vista è la chiave fondamentale. Ho messo qualche foto di quello che è oggi il tema vero della saturazione delle destinazioni chiave, questa è Venezia, questa è Roma, mi permetto solo di sottolineare che anche cercando con la lente è difficile trovare un sorriso in mezzo alle facce di questi signori e per chi fa impresa non trovare un sorriso all'interno dei propri consumatori è un segnale gravissimo nell'avviamento che l'impresa può avere. Consoliamoci non è solo un problema italiano, voglio dire la Cina che affronta i tema soprattutto in chiave di dimensione si trova ad avere gli stessi problemi. Allora sia come impresa e sia come movimento di rete delle imprese che sono sostanzialmente le associazioni il tema vero è come assicurare valore e perennità e la saturazione è il primo nemico della qualità delle esperienze e della qualità di volerlo fare. Allora il tema ci dobbiamo porre certamente se noi siamo è un tema di allarme o se siamo già oltre la soglia di rischio e personalmente io credo che siamo già per molte realtà italiane e soprattutto continuando a insistere sulle realtà focus quindi Venezia, Firenze, Roma eccetera come emblema dell'Italia turistica siamo già oltre la sole di rischio perché c'è un dilemma eclatante tra cosa vendiamo, un'immagine dalla grande bellezza quindi quello che oggi è insieme a Italy o altri elementi tra i più grandi promotori del nostro paese e cosa nella realtà davvero compra il cliente. Quindi il distacco soprattutto in una dimensione di piacere che è la dimensione per la quale si compra un viaggio o si fa un'esperienza di viaggio è eclatante. Allora come pensare a un diverso modello di crescita che dal mio punto di vista dovrebbe essere una leva con la quale operare e operare devo dire con intelligente egoismo dal punto di vista sia di singola impresa che di movimento complessivo. Noi abbiamo secondo me due elementi, li ha molto meglio di me citati Morace prima io banalmente sono una persona che ha studiato finanza e ha lavorato in impresa e continua a lavorare in impresa ma la globalizzazione va vista come una straordinaria opportunità di piattaforma la globalizzazione sia in termini di flusso della conoscenza, dell'informazione ma di democratizzazione dei viaggi quindi tutto quello che è il low cost, l'accessibilità rende note le cose a tutto il mondo con una straordinaria velocità si tratta di capire come valorizzare invece le diversità locali che noi possiamo avere e le alternative possibili credo ci siano assolutamente abbiamo cercato di farle in confindustria trasformando quello che è un normale sindacato d'impresa quindi qualcosa che è molto simile soprattutto nella tradizione italiana alla logica delle corporazioni quindi difendo il mio status quo, difendo i vantaggi competitivi che mi sono riuscito a creare nel tempo per fare qualcosa che sia il più possibile una sorta di sindacato di prospettiva perché credo che solo lavorando sulla crescita di cose che facciano senso si faccia oggi in modo significativo un lavoro nell'interesse delle imprese che noi difendiamo allora il lavoro fatto ho segnato tre assi principali ma che credo siano quelli che devono guidare sia il lavoro che fa un sindacato di impresa come Confindustria sia l'impresa che ho il privilegio di guidare per quanto riguarda il mio mestiere che è quello di soprattutto da un lato uscire da quella logica di eccessi di saturazione quindi valorizzare il patrimonio diffuso del paese e noi abbiamo approfittato dell'Expo per lavorare con fede alimentare per essere trasversali perché l'esperienza del viaggio e soprattutto le motivazioni al viaggio sono straordinariamente trasversali quindi non si può pensare all'interno del silos del comparto della ricettività o del comparto del mero trasporto tutto è straordinariamente interconnesso abbiamo già nel 2013 iniziato a fare un punto che doveva cercare di dare ai singoli territori fermo appunto questa logica di territorialità che ancora governa il nostro sistema delle linee guida che valorizzassero gli aspetti positivi e competitivi ma riuscissero a dare ad ognuno dei territori una connotazione che facesse senso evitando che ogni 20 chilometri ci fosse un centro congressi perché evidentemente non tutte le città possono avere un centro congressi investito sulla formazione e sul dare ai territori delle persone formate cioè il manager delle reti di impresa per dare senso anche a quegli strumenti lodevoli come quello dell'incentivazione delle reti di impresa che soprattutto in un terreno come quello italiano aiutano a mettere insieme su un territorio delle imprese e oggi stiamo lavorando perché un treno fondamentale è quello dei fondi europei c'è la finestra della programmazione 2014-2020 l'Italia in questa sua diaspora locale è straordinariamente impreparata rispetto ad altri paesi lì bisogna intervenire e fare delle cose e quindi faremo adesso presenteremo alla camera una visione complessiva e soprattutto un diagramma di tempi di retro planning che le singole regioni devono darsi per poter non perdere come paese i fondi che l'Europa mette a disposizione proprio in tema di qualificazione del territorio e di turismo il tema del digitale certamente è noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando con Union Camera e con Google per far crescere la consapevolezza su questo tema perché tutto passa di lì l'80% delle scelte di viaggio nascono sulla rete nascono su web e anche qui nascono non solamente sui social come sovente si rischia di confondere i social hanno un peso fondamentale la qualità del racconto è un tema molto più cruciale che dobbiamo darci il diverso racconto paese è un vecchio pallino che Braille aveva in qualche modo iniziato a fare proprio per me è fondamentale la capacità di innanzitutto di raccontare l'Italia raccontarla nel suo complesso e in qualche modo lo spot che avete scelto di Air France è assolutamente questo è sintesi di fascino, di bellezza, di piacere della vita ma anche di profonda tecnologia e capacità di essere produttivi e unitari quindi lì bisogna intervenire e l'ultimo asse abbiamo proprio a Pietrarsa dove il MIBACT ha organizzato una sorta di stati generali della visione sul turismo italiano qualche settimana fa presentato tutto il nostro approccio sulla green economy che soprattutto sulla capacità di valorizzare in termini di sostenibilità ambientale temi che a buona parte dei nostri visitatori sono cruciali tutta una serie di aziende per esempio tutto il circuito dei musei di impresa di musei impresa di confindustria sta lavorando per la certificazione in questo senso noi siamo la prima federazione italiana certificata ma questo insomma è un dettaglio ma il fatto di riuscire a dare questa dimensione in modo intelligente e consistente credo sia davvero una chiave di successo proprio per tutta la filiera in sintesi il lavoro che noi abbiamo cercato di fare come Confindustria è proprio quello di stimolare non tanto a guardare come imprenditori e come imprese a come difendere il proprio giardinetto ma al contrario a pensare come ci sia una straordinaria opportunità dove però bisogna prendersi il rischio diciamo di scommettere di intervenire ma soprattutto come il nostro settore e il nostro paese rischi profondamente proprio per quella dilemma crescita verso saturazione e focalizzazione verso poche destinazioni che rischiano di svuotare di esperienza di passare da un bene a valore aggiunto a una commodities oggi il rischio è concreto è la scommessa che ogni impresa deve fare io credo vada al di là della opportunità di tirare valore dal prodotto che vendo quindi di non rischiare di essere un produttore di commodities ma di rimanere un produttore di valore aggiunto credo sia anche una profonda opportunità per le persone che producono e per le persone che consumano ecco la declinazione di prodotto valore aggiunto non è solo nel valore a cui riesco a vendere il prodotto ma credo sia anche da un punto di vista sociale di prospettiva di ingaggio collettivo una grandissima opportunità se io posso lavorare su questi temi lo è per le persone individuali e lo è per i territori questo credo sia la grande scommessa su cui lavorare come azienda e anche come sindacato di imprese grazie Iorio ecco poi vi farò discutere tra di voi su questo e altri temi però due battute gliele voglio fare immediatamente per capire senta ma di questo lavoro quali sono i risultati cioè come sta andando adesso il turismo stiamo raccogliendo dei progressi oppure comunque dopo anni in cui la concorrenza della Spagna, la concorrenza della Grecia, della Turchia ci hanno tolto fette del mercato globale che cresceva si vedono dei segnali di recupero allora i segnali ci sono i meriti sono dei meriti individuali di alcune realtà lodevoli resta a volte profondamente scoraggiante un panorama culturalmente debole della nostra impresa quindi è lì che bisogna lavorare è lì che ci deve essere la responsabilità forte anche di chi fa sindacato di impresa oggi veniamo non solo da un tema di governance diffusa non intelligente ma anche da una spinta da parte di chi fa impresa a fare delle cose che non sono intelligenti che sono corporative lì sta il salto di qualità sicuramente come paese altri stanno facendo meglio cioè la Spagna cresce più di noi la Francia continua a tenere quote di mercato in modo significativo nonostante le dovrebbe perdere per la diffusione generale del clima della situazione dei traffici però certamente il paese va bene è proprio quando le cose incominciano ad andare bene che bisogna riuscire ad alzare la testa e guardare oltre le opportunità di fare molto bene ci sono e soprattutto è un settore nel quale le barriere all'ingresso sono relativamente deboli è un settore e lo dimostra il successo per esempio di Airbnb che dal mio punto di vista di impresa è un competitor drammatico e dirompente però oggi c'è uno spazio per mettere in rete degli stock esistenti non sfruttati straordinario è lì che si crea valore bisogna sempre farlo cercando di stare attaccato al cliente e credo che l'effetto anche per questo mi sembra interessante il panel perché sia i grandi poli e la visione lungimirante d'impresa come il caso di Ferrovia dello Stato non solo nella dimensione di aver dato la più importante infrastruttura turistica del paese che è l'alta velocità oggi ma anche con il caso specifico di Pietrarza che è come un'iniziativa riesce ad avere un effetto alone, polo e di crescita non solo di attrazione ma poi tutto il tema che il professore Isepi potrà parlarci dell'ingaggio del consumatore credo sia un tema cruciale ecco se devo vedere il limite che oggi noi abbiamo come sistema d'impresa è uno essere profondamente miopi ed egoisti come imprenditori e il secondo continuare a guardare noi che facciamo imprese a parlarci tra di noi e avere poca attenzione invece su quello che effettivamente è il cliente il consumatore che fa e cosa vuole lì sta la cruciale scommessa nel riuscire a farlo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti